vediamo un po se funziona questo bella ragazzi tutto bene? è una pesissima cosa che mi segue vuole capire se mi sentite siamo entro? chi è? Sagna mi senti? Sagna? 1, 2, 3, 4 non lo so vediamo se riusciamo a becchiare qualche trottella chissà ciao ragazzi sai cos'è che però me la becco dall'altra parte adesso ok facciamo così così riusciamo a gestirla meglio giro ci siamo se qualcuno mi sente me lo dica perché sto usando una parchiatura particolare ora andiamo con questa cosa qua si ci può stare proviamo qualcosa di ultra leggero ovviamente buon Natale ragazzi seguimi tutte le chiavi le abbiamo siamo riuscire a beccare qualche trotta una ventina ne ha messe giù sì 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 buono dai sto usando un ondulante vedete ragazzi vediamo se riusciamo a giocarla a trote qui seguimi 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 ciao bello sul fondo e poi vediamo se riusciamo a giocarcela hai già messo le canne ho già fatto l'aperitivo e adesso aspetto è anomalo la faccia è abbastanza anomalo 1 2 3 niente vediamo come gestire la cosa per lavorare bene lavora bene ragazzi fate tap tap sulla il video spinning a natale solo su full timber pesca buon Natale a tutti ragazzi a belli e brutti e noi siamo qua che peschiamo diretti seguimi brava se noi riuscissimo a trovare un buco dove le ragazze sono a cazza interessante interessantissimo chi c'è qua ciao ragazzi e vediamo la vedo durissima buon Natale ragazzi buon Natale seguimi 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 c'è qualcuno che mi capisce all'interno della live volevo capire se funzionavano le cuffie bella ragazzi bella ripadella scusate ma mi sono fatto l'aperitivo sono un po' pieno no no hai ragione che t'è bella che tu hai di famiglia perciò mi aspetto il pranzo di Natale posso anche gestirmela l'unica cosa com'è che ti chiami Enrico se io mi muovo così continui a sentirmi perché ho degli auricolari volevo capire Monti ma ci sono i pesci qui dentro ah non lo so spero di no così io faccio la bella figura ho visto stamattina che muoveva molto l'acqua ma là in fondo sì sono le trote sono le trote sì 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 vediamo se ci credi guarda guarda cosa ho preso aspetta un attimo ok grazie Enrico guarda 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 che mi segue vedi no no vedi che mi segue il cellulare guarda guarda ti rendi conto è figa questa cosa qua così posso andare a pescare da solo e nessuno senza per forza aver qualcuno che mi tiene il telefono si muove al sensore di movimento no no va anche con i comandi posso dare stop se la por la mano ok va tutto vocale hai capito Monti no vedi il cellulare guarda il cellulare guarda guarda che si muove con me no se vede la tua faccia guarda che si muove vedi che mi segue beh ti rendi conto la tecnologia no forza oggi è la prima volta che lo testo poi dopo ciò le cuffie quelle sono le cuffie quelle sono osseo che vanno a osseo vedi che non mi prendono l'orecchio prendono l'osso e il suono passa di qua così ho le orecchie libere è bellissimo la tecnologia avanza la conduzione è ossea è una cosa impressionante in anzianità pure vabbè ho quello volevo vedere se riusciva a ganzare qualche trottuzza ha detto Massi che ne ha sbattute dentro un po' mi sembra di vedere un riflesso strano chissà eh è troppo vicino ah no sono un po' pesce una noccia e che i pesci li bisogna portare e buttarli dentro e dopo si moltiplicano no? salve meglio no le trofano altro? no ma ci sono già eh ma quante? ce ne vengono tante così uno ti diverte pesca ma ce n'è qua eh delle gran carte ho portato anche i miei pesci rossi beh ha seguito testo Poppo oh devi seguire me Cippo non lui andiamo a provare di qua no seguimi qui le ciao 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 Grazie a tutti A te e tutta la tua famiglia Auguri Prima Natale Questa cosa qua l'ho fatta per Sperimentare ragazzi Sto aspettando un'attrezzatura che userò poi Userò poi Grande ragazzi In diretta con full timer pesca Anche a Natale non si molla Ci spostiamo Andiamo un po' più là Grazie ragazzi per i like Cliccate e fate tap tap E andiamo a vedere un attimo Se riusciamo Stamattina ho detto che c'era dell'attività Là in fondo Andiamo a vedere se riusciamo a giocarcela Anche perché tra un po' Vado a mangiare i tortellini in brodo Tanto per gonfiarci un attimo Riuscire a beccare una tortuzza Non sarebbe male Giusto per chiudere l'anno Vediamo se riusciamo a giocarcela Qua mi sembra che una dischetta a buchetta Devi trovare i sensori Quelli sensori I sensori che ti seguono Sono dei portatelefoni E l'ho visto In sindrome da shopping Quel ragazzo Che prova tutte le tecnologie Allora Questo funziona da via C'è un po' troppo C'è un po' troppo Vedi Bella C'è un po' troppo Robazzo per terra Però Buon lancio questo E' un po' troppo Non è bellissimo Bella ragazzi Buone feste a tutti Mi raccomando Tap tap Sul video Siamo anche su Facebook Facebook e Instagram TikTok e YouTube Seguimi eh E' un po' troppo Un po' troppo E' un po' troppo Andiamo a tre Grazie. 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 Non so se mi segui in base. Si vola. Seguimi. No. Grazie ragazzi che hai messo like. E ovviamente. Buon Natale. Buon Natale. L'aria. Pizzare. E' un po' troppo sporca. L'acqua. Però. Potrebbe essere. E' un po' troppo. E' un po' troppo. E' un po' troppo sporca. E' un po' troppo sporca. La lasciamo andare sul fondo. Due corti. Due corti. Vediamo. Non. E' un po' troppo. un lancio da paura 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 guarda ragazzi vi lascio ci vediamo dopo no no aia chi è ragazzi miei mi sa che devo andare a mangiare ci becchiamo dopo no guarda manzana